Benvenuti a tutti, sono Arca Yammer e sono molto emozionato perché in questo 2024, come promesso, vi porto un secondo nuovo format, oltre alle uscite del mese, Arca Consiglia, cioè le uscite del mese scorso, in questo caso dicembre 2023, che ho portato proprio qui sul canale. Oggi facciamo il nuovo format Arca Uscite, le Arca Uscite, se vogliamo dire così. Cosa sono? Tre volte al mese farò un video dove vi parlerò dei primi 7-8 giorni, i successivi 7-8 giorni e gli ultimi 7-8 giorni, 10 giorni delle uscite al cinema, così che voi siate informati. Chiaramente i film sono di tutti i tipi, quindi dal cinema d'autore alla catena, quindi non so, dovete vedere voi, potete vedere quale vi interessa. Prima di andare avanti vi invito a iscrivervi, a supportarmi per questi contenuti, che ve ne porto tanti, e me lo merito, un like, un'iscrizione, e se vi va, abbonatevi pure. C'è il tasto qua sotto per due caffè al mese, mi supportate. Avete anche dei piccoli vantaggi, fra cui lettura prioritaria dei commenti sotto i video e nelle live, e sondaggi esclusivi sul canale della community. Quindi, incominciamo, perché non sono tantissimi i titoli, in effetti, nella prima settimana di gennaio, ma sono interessanti e ne possiamo parlare. Ovviamente, in questo video vi faccio gli auguri di buon anno, ma essendo già l'uno, io lo sto registrando prima, ma è l'uno che uscirà alla mattina, proprio l'uno, escono già due film, diciamo, importanti. Uno molto importante, l'altro importante sotto altri versi. Iniziamo quindi subito da Il ragazzo e l'erone di Miyazaki, che arriva in Italia dopo che è stato in America e nel mondo con un buon successo di critica e di pubblico. La nuova opera di Miyazaki, dello studio Ghibli, scegliete voi la vostra pronuncia giapponese o alla europea, sicuramente attira l'attenzione dal trailer, che è di indubbia qualità. Molti l'hanno paragonato, oltreoceano, alla Città Incantata. Per me non è questo complimento, perché non ho amato La Città Incantata, ma sono molto curioso e ci ando sicuramente a vederlo e a portarvi la recensione, essendo che sarò con Nick DeLarge. Lo trovate sicuramente in tutti i cinema, anche nelle catene, perché è molto ambito ed è già, ho visto, i posti stanno finendo per i primi spettacoli. Quindi mi aspetto grandi cose da questo Miyazaki, non penso sarà il capolavoro dell'anno, ma sicuramente sarà interessante. Non posso dire lo stesso, succede anche nelle migliori famiglie, primo gennaio, che guarderò, ma per un motivo malsano, non certo perché il regista e l'attore principale siano dei miei beniamini, o lo stesso beniamini, essendo regista e attore il medesimo, ovvero Alessandro Siani, che torna con la sua commedia di fine anno o di Natale, dipende. Questo film, che abbiamo visto il trailer, sembra becero, sembra. Magari mi stupisce, Siani fa il film della vita, ma essendo che ho visto gli ultimi due, ovvero che ha incassato Babbo Natale, tramite amicizia, non ho grandi aspettative, con le famose battute cannabis e quello della pagella, io un po' tremerei. Quindi lo vedrò per malsana curiosità, ma magari cambierò idea, voi lo vedrete, chissà. Nel caso vi foste ripresi dalla commedia italiana di Siani, vi beccate la commedia italiana di De Luigi, con 50 km l'ora, che, andiamo a vedere un attimo gli attori, così ci facciamo un'idea, Stefano Accorsi, Alessandro Haber, Elisa di Eusanio, De Luigi alla regia. Non vedo voti, non è stato visto in anteprima, chissà. Io devo dirvi che con De Luigi ho un buon rapporto, tutto sommato. Il suo film peggiore è sicuramente guardabile, non mi è mai capitato di avere un film fra le mani talmente brutto. Voglio vedere se Dieci giorni senza mamma l'aveva diretto lui, ma non credo, vediamo. Infatti no, è diretto da Genovesi, certo, con De Luigi protagonista, ma è diretto da altri. Quindi, per me, lui è un bravo comico e, questa storia l'abbiamo vista nel trailer, parla di due fratelli che si odiano, ma che si poi ameranno nel corso della vicenda come fratelli e che faranno pace. Non lo so, sarà interessante. Voglio dargli un'opportunità. Quindi, dal 4 gennaio al cinema, passiamo a un pezzo grosso, uno bello pesante. Perfect Days, di un certo Wynn Wenders, che è andato a Cannes, è uno dei film più considerati di questo 2023, da noi che arriva nel 2024, ma ha già fatto il suo bel giretto in tutto il mondo. parlano di un film lento, senile, di un grande autore. Quindi, dipende molto dalla vostra sensibilità, andarlo a vedere o meno. Io, alla fine, lo andrò a vedere, ma so già che non è il mio tipo di film, anche se adoro Wenders come regista, non si può che amare. Sarà un film bello pesantino, e sta a voi decidere se andare a vederlo o meno. E poi chiuderei con un film del 4 gennaio, che è, andiamo a vedere, è un giovedì. Di solito, sì, il giovedì ricaricano i film nelle sale. L'ultimo è Wonder White Bird, che è il sequel, diciamo, di Wonder Film, su quel ragazzino un po' emarginato, con un cast, però, di tutto rispetto. Vi vado a leggere, perché secondo me è molto, molto interessante. Abbiamo Gillian Anderson e Ellen Mirren. Mica male, no? Mica male. Ah, c'è ancora un altro film. Secondo me si può... vale la pena andare a provare a vedere questo film, che sarà forse un po' drammone, forse sì, forse no, ma l'opportunità io gliela darei e gliela darò nel caso sia possibile. Quindi sono perfettamente convinto che possa uscirne un buon film, visto che il trailer sembra abbastanza promettente. E chiudiamo il video di oggi con The Miracle Club, sempre del 4 gennaio, di cui so molto meno, ma che sembra un minimo promettente. Intanto per il cast. Laura Linney, Katie Bates e Maggie Smith. Io, un'occhiata solo per questo cast glielo darei. Quello che ho letto è un dramma molto familiare. Quel tipo di film, insomma, che ci aspettiamo, da un budget non troppo alto, pieno di brevattrici, ma che avrà quel tono drammatico, comico, di quel tipo lì. Quindi io non conosco il regista, che è Taddeus Sullivan, non lo so, Gran Metagna, 91 minuti. Io lo andrò a vedere per Laura Linney, ma anche le altre due azzeci che ho nominato valgono la pena di essere viste. Quindi, questi sono i film. Quali andrete a vedere? Iscrivetevi qua sotto e commentate come volete. Iscrivetevi e se vi va abbonatevi. Ciao!